L'aglio è un alimento noto per i suoi benefici per il corpo umano fin dall'antichità ed è spesso usato per migliorare la salute e aggiungere sapore ai pasti. Gli effetti positivi dell'aglio, che è un antibiotico naturale, non finiscono con il contare e la ricerca rivela ogni giorno un nuovo beneficio. L'aglio, che apporta incredibili benefici al nostro organismo grazie alle sue proprietà antibatteriche, fa bene a molte malattie metaboliche se consumato al momento e nella giusta quantità. Quali sono i benefici del consumo di aglio? Quando e quanto dovrebbe essere consumato? Esaminiamo insieme. Puoi iscriverti gratuitamente al nostro canale prima di passare ai vantaggi. Siamo qui con un nuovo video informativo ogni giorno. Quali sono i vantaggi di consumare solo 3 spicchi d'aglio al giorno? L'aglio ha effetti molto importanti nel riportare la pressione sanguigna alla normalità alleviando la contrazione e la tensione nelle vene. Questo alimento è ricco di flavonoidi, noti per i loro effetti positivi nella regolazione dei livelli di colesterolo nel sangue. Lo zolfo nel suo contenuto aiuta a prevenire l'accumulo di placca nelle vene mostrando un effetto fluidificante del sangue e combatte l'infiammazione nelle vene. Inoltre, l'aglio, che combatte la formazione di trigliceridi e abbassa i livelli di colesterolo cattivo nel corpo, aiuta a ridurre il rischio di malattie cardiache a lungo termine. Con il suo ricco contenuto di potassio, è efficace nel lavoro dei muscoli striati e nel mantenimento dell'equilibrio idrico del corpo. Allo stesso tempo, gli effetti antiossidanti e antinfiammatori dell'aglio purificano l'intero apparato digerente da tossine e batteri. I composti di allicina nel suo contenuto hanno proprietà letali contro tutti i parassiti nel sistema digestivo. È una ricca fonte di probiotici che migliorano i batteri benefici nell'intestino e avvantaggiano il sistema immunitario. Il consumo di aglio migliora tutte le attività digestive aumentando il numero di batteri benefici nel corpo. Oltre a tutti i suoi effetti positivi, funge da scudo contro fattori microbiologici come batteri, funghi e virus. Due spicchi d'aglio possono soddisfare il 10% del fabbisogno giornaliero di vitamina C di una persona. Come antiossidante, la vitamina C lavora con altri composti per aumentare la resistenza del nostro corpo alle malattie batteriche e virali. Ci permette di sbarazzarci dei periodi di malattia durante i periodi in cui il sistema immunitario è debole, come raffreddore e influenza. Inoltre, l'alta vitamina C aiuta a prevenire la perdita d'acqua causata da squilibri idrici durante i periodi di febbre. Allo stesso tempo, la pectina che contiene aiuta a bilanciare lo zucchero nel sangue e fornisce protezione contro gli squilibri di zucchero. L'aglio è una ricca fonte di quercetina. La quercetina assume responsabilità molto importanti nella regolazione dei livelli di zucchero nel sangue e nel corpo. Rallenta l'assorbimento degli zuccheri a livello intestinale, soprattutto cooperando con il fosforo in esso contenuto. Grazie ai composti che contiene, l'aglio previene il processo di formazione della glicazione nell'organismo. Aiuta a mantenere la glicemia ai livelli desiderati ed è efficace nel prevenire complicanze come la neuropatia e la neuropatia, che sono comuni nel diabete. Aglio per muscoli e ossa più sani. Questo nutriente riduce sia il dolore acuto che quello cronico. Poiché contiene composti benefici che agiscono per la protezione del tessuto osseo e articolare, è utile per molti problemi fisiologici come lesioni muscolari legate all'impatto e danni al tessuto osseo. Inoltre, gli antiossidanti naturali assunti dal corpo contro le cellule cancerose sono molto importanti. Le vitamine C e D, che sono tra i più importanti antiossidanti, e il minerale selenio sono abbondanti nell'aglio. Inoltre, è un potentissimo antiossidante grazie ai composti fenolici che contiene. Quindi, aiuta il nostro corpo a prevenire molti tipi di cancro. Quindi, ci sono effetti collaterali dell'aglio? Innanzitutto, l'aglio è un alimento con proprietà antivirali e antimicrobiche molto elevate. Non appena entra nel corpo, inizia a purificare il sistema digestivo. Tuttavia, se viene consumato in grandi ed eccessive quantità, questa situazione diventa negativa. Le sue proprietà antimicrobiche provocano irritazione nel tratto digestivo e creano una sensazione di disagio. Pertanto, è molto importante impostare correttamente la quantità di consumo. L'aglio può aumentare l'effetto dei farmaci che fluidificano il sangue. Per questo motivo, le persone che fanno uso di droghe costantemente dovrebbero consultare il proprio medico prima di consumare aglio e succo d'aglio. Quindi, quanto aglio dovrebbe essere consumato? Gli esperti affermano che due spicchi d'aglio aggiunti alle insalate o ai pasti due a tre giorni alla settimana sono molto utili per questi individui sani. Alla luce di queste informazioni, puoi aggiungere l'aglio alla tua dieta e beneficiare dei suoi benefici a lungo termine. Se ti piace il nostro video, non dimenticare di mettere mi piace e di iscriverti al nostro canale se non lo sei ancora. Stai al sicuro. Tieniti informato.